Musica Mi corazzone Sta a punto di esplotarti Musica Fara chai eschina hattit e doffit Chalao y cilbeo lfd 7 lfaen Fara chai eschina hattit e doffit Chalao y cilbeo lfd 7 lfaen Heee 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 Ehi, gelme asbah cebale Ehi, gelme asbah cebale Comelle, comelle, comelle Cheby giveria Mi ragazón Comelle, comelle, comelle Mi ragazón Ehi fossa Ehi, gelme asbah cebale Al filan Ah ya hay 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 Ma da Ah ya hay Ma da Ya sal Nie Ja Ja ową Ah ya Ah ya RUBA O O Eh Ah ya Ah ya Ah ya a Y Ahí Welcome back and you're still watching now cruise on our TV International coming to you from the Egyptian Museum of Antiquity and we have listened to the measure troops singing foras it is mean La Gemmeza Troupe era fondata per ristare la genuinità e l'originità dell'egypto. Si trattavano le canzoni classici dell'egypto con i moderni in un'unica modo. Il fondatore del canzoni è Mr. Nubi. Abbiamo ascoltato a lui insieme con Yammis Willem e il suo figlio. E ora è il momento di divertire un altro canzoni called Albi Sahara. Luzie di Commenze E io ho un mel E io ho un'è Ma è il tuo figlio Ma è il tuo figlio Ano calbi soffro, maliyan uccan, maliyan kelab, maliyan zucan Rammlu telal, soffroo jibal, soffroo jibal, soffroo jibal, soffroo jibal Chagare ez zhetun, balah inn aghil da Chagare ez zhetun, balah inn aghil Sobreile jeemoale siebod il adys, am efter � hatchamak Uh an amal antarra antarra peggiorno io sono cercan attraverso il merito sì a 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 and by this we come to the end of a very special episode from the Egyptian Museum of antiquities for Naya Cruz for this week but before we go we'd like to thank Russia Well of course we'd like to thank all those who facilitated for us being here including General Ahmed Shaheen, General Ali Al-Sidai, General Mustafa Anas, Brigadir Khalid Salim, Colonel Ahmed Shauqi, as well as Brigadir Mohamed Ruihan, also we'd like to thank all the officers and police crews who allowed this beautiful episode to come out and secured us and made the And before we go don't forget to follow us on Naya Cruz on Naya TV on Facebook, Google Plus Twitter and YouTube and this would be the end of the episode Russia. Yeah unfortunately we will be leaving the Egyptian Museum of antiquities but we will be back next week with Naya Cruz. Yes. 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 And this is goodbye from us. Goodbye. And this is 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 goodbye. Grazie a tutti.